Costruire un portafoglio cripto è una cosa facile da dire ma difficile da fare perché bisogna affrontare tutta una serie di punti per nulla banali partendo dal magari più banale quanto allocare in cripto cosa di cui dovremmo aver trovato risposta nella prima puntata di questo corso nello scorso episodio poi però bisogna anche andare oltre e capire come scegliere le cripto da includere in portafoglio e quali scegliere e poi come pesare ognuna di queste scelte cioè di questa cripto che ho deciso di includere quanto alloco il 2% il 5% il 10% e per quale motivo l'obiettivo dovrebbe essere anche contenere la volatilità perché se si parla di un portafoglio di lungo termine l'ultima cosa che si vuole è avere un per 2-50% per 3-90% nel giro di pochi mesi altrimenti diventa difficile mantenerne il controllo quindi bisogna attuare tutta una serie di strategie e di particolari azioni volte proprio a contenere la volatilità e i rischi perché ciò che vogliamo se puntiamo a lungo termine è la stabilità parola veramente difficile da includere in un contesto cripto ma bisogna prendendo alcune precauzioni farlo e vedrete che si può quindi oggi in questa seconda puntata del nostro corso sul come investire in cripto andiamo ad affrontare e snocciolare proprio tutti questi importantissimi punti se vi siete persi la prima vi consiglio di andarla a recuperare perché questa diciamo è un seguito bisogna prima aver compreso quanto abbiamo detto nella scorsa puntata sul quanto ci si può permettere di investire nonché alcuni iniziali temi di rischio che oggi andremo ad approfondire in modo più specifico e oggi quindi risponderemo proprio alla domanda come si fa a costruire un portafoglio cripto? seguitemi e lo scoprirete buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti andiamo quindi a rispondere alla famigerata domanda ovvero come si fa a creare un portafoglio cripto? oggi lo andremo a vedere in modo molto dettagliato e specifico con anche alcuni esempi al fine di non rimanere soltanto teorici astratti ma anche far capire che cosa significa quello che diciamo e così appunto si riduce il rischio di non ascoltarlo perché è troppo astratto e troppo teorico la frase chiave è diversificare ma in modo sensato perché come vedremo la diversificazione insomma se fatta all'estremo ha molto molto poco senso quindi bisogna trovare un po' quel giusto mezzo cominciamo subito col vedere di che cosa parleremo oggi vi ricordo che potrete scaricare queste slide dal link che trovate in descrizione in modo totalmente gratuito eccoci qua allora partiremo dal capire come definire la propria asset allocation macroscopica quindi l'intero portafoglio non solo cripto capire vuol dire cioè fare una riflessione siamo partiti con la prima puntata dove abbiamo fatto certe riflessioni sulla nostra situazione patrimoniale sulla nostra tolleranza al rischio delle riflessioni che bisogna fare sempre altrimenti non si può investire a caso bisogna prima fare una propria analisi finanziaria motivo per cui vi consiglio caldamente di recuperare quel video se ancora non lo avete visto è un percorso breve di tre episodi questo che stiamo facendo questo è l'episodio numero due quindi va seguito appunto step by step il secondo punto è il contenere la volatilità sappiamo che le cripto sono un asset di per sé volatile per natura bitcoin storicamente ha dei drawdown fino almeno 85% e quindi dobbiamo volerli sopportare altrimenti non fa per noi investire in cripto questo fa parte proprio di un concetto molto semplice molto di base che è il rischio che io posso permettermi e voglio addossarmi se non voglio addossarmi un certo rischio evito certi asset oppure ne contengo estremamente l'allocazione a una fettina molto molto piccola terzo punto come contenere i rischi del portafoglio nelle cripto ci sono parecchi rischi uno di questi è la volatilità volatilità che può essere estremizzata se si parla di cripto a bassa capitalizzazione poi ci sono tutta una serie di rischi legati alla custodia legati all'utilizzo di piattaforme centralizzate o anche decentralizzate vanno contenuti magari minimizzando o comunque appunto contenendo l'esposizione a certe tipologie di piattaforme o a certe operatività sempre in base a quanto si è disposti a rischiare per ottenere un certo risultato come scegliere le cripto da includere? qua andiamo a sfociare un po' su un ABC di analisi fondamentale questo tema l'abbiamo approfondito in tantissimi altri video quindi qui lo accenniamo proprio in due parole poi se appunto lo volete approfondire trovate pane per i vostri denti proprio qui sul mio canale ultimo punto sempre per sottolineare i rischi cripto a rendita sì oppure no e se sì dove? e quali rischi corro? come contenere questi rischi? tutti punti estremamente importanti perché le cripto danno tutto un ventaglio di possibilità di appunto detenzione barra rendita barra esposizione a una certa volatilità e un certo upside quindi la possibilità di aumento di valore ma sempre accompagnate a braccetto da rischi rischi che vanno compresi vanno contenuti e bisogna sempre ragionare in base alla propria situazione se siamo disposti a correrli quanti siamo disposti a correrne in base a questo poi decideremo per l'appunto il design del nostro portafoglio finale come avrete capito lo scopo di questi video è rendervi autonomi rendervi autonomi nell'investimento nella riflessione nel fare voi le vostre scelte le vostre valutazioni personali quindi anche se oggi vedremo alcuni esempi questi esempi hanno uno scopo puramente esemplificativo per l'appunto e non sono assolutamente da copiare o da prendere come consigli finanziari questo deve essere sempre valido quindi chiamate il vostro consulente finanziario se volete qualcuno che vi investe i vostri soldi e se vi dice ste cripto che cosa sono mandatelo sul mio canale e fateli guardare un paio di video andiamo avanti cominciamo con il la cosa più importante di tutte quindi il concetto di asset allocation asset allocation è quella disciplina che punta a studiare come diversificare il proprio capitale rispondendo a due domande queste domande le avevo già sviscerato un po' nella presentazione proprio sull'asset allocation che avevo fatto a Bologna e ho caricato anche qui sul canale vi consiglio di darci un'occhiata se vi capita le due domande sono quali sono gli asset in cui vedo massimo valore e quanto sono disposto a rischiare queste due domande dovrebbero delineare a grandissime linee quella che è la mia asset allocation io devo capire studiando ovviamente dove vedo del valore questa è una risposta estremamente personale perché io ho degli amici che mi dicono per me bitcoin non vale nulla e io gli dico guarda rispetto la tua opinione la penso diversamente e ovviamente non investirci cioè se vuoi speculare fai la scommessina ma chiaramente non verrebbe mai da pensare di dire di investire in bitcoin a qualcuno che non crede abbia valore questo sembra scontato ma a volte non lo è perché se non si conosce bitcoin se non si conosce ethereum se non si conoscono le crypto purtroppo molti ci investono lo stesso pur non sapendo in che cosa stanno investendo questo è un errore molto grave perché è inconsapevolezza l'inconsapevolezza non genera mai un buon investimento diventa una scommessa che è totalmente diverso come approccio dall'investimento qui stiamo parlando di allocare il nostro capitale significa anziché detenerlo in banca perché avere 100% liquidità in preda all'inflazione è una cosa che non mi piace non si sposa con la mia propensione a rischio con la mia le mie aspettative future allora lo voglio diluire in vari asset asset che per me in questo periodo storico e nel futuro sono quelli che hanno il maggior valore ovvero possono far crescere questo mio capitale non lasciarlo lì fermo congelato in preda all'inflazione che in questo periodo ragazzi è galoppante secondo punto quanto sono disposto a rischiare perché ci sono alcuni asset come le crypto per l'appunto come anche lo stesso bitcoin che hanno un upside molto importante cioè se effettivamente raggiungono una certa massa di adozione una certa diffusione il loro valore può crescere anche di ordini di grandezza però ci sono dei rischi associati è inutile negarlo guardati i drawdown l'abbiamo detto prima meno 85% di solito dai massimi ai minimi e questo non è per tutti cioè non è assolutamente per tutti le altcoin c'è il rischio che possono andare addirittura a zero se si sceglie il progetto sbagliato ci sono tutta una serie di rischi che se io sono disposto a correre devo quantificare e controllare in una fettina di portafoglio se non sono disposto a correrli non li devo correre perché altrimenti subentra un panico subentra l'emotività che è la nemica giurata dell'investimento se io non comprendo i rischi oppure corro dei rischi che in realtà non vorrei correre non ci dormo la notte ci si stressa e diventa poi un investimento assolutamente viziato dall'emotività quindi adesso approfondiremo proprio questi punti ma prima per terminare questa parentesi sull'asset allocation definiamola meglio perché per me ci sono tre livelli di asset allocation un livello macroscopico quindi quali asset voglio detenere che può essere che ne so io vi faccio sempre il mio esempio 25% cripto 25% stocks e commodities 50% liquidità questo è un esempio di asset allocation macroscopica asset allocation settoriale cosa vuol dire vuol dire all'interno di ogni categoria di ogni comparto che cosa c'è quindi cripto vuol dire x per cento bitcoin x per cento ethereum x per cento bnb x per cento qualcos'altro quindi l'allocazione di ogni comparto lo stesso vale per le singole stocks se ci sono stocks specifiche o degli etf o magari delle commodity specifiche oro petrolio argento quello che è allora quella è l'asset allocation settoriale che va a esplodere le mie il mio comparto liquidità vuol dire dollari euro franchi svizzeri altre valute un paniere valutario di un certo tipo è sempre asset allocation settoriale infine abbiamo l'asset allocation attiva cosa vuol dire vuol dire una gestione attiva di un comparto di una fettina della mia asset allocation esempio i bitcoin li ho a rendita suave li ho trasformati in wbts e li ho messi a rendita suave bene quella è un asset allocation attiva quindi devo essere consapevole di averlo fatto perché poi mi espongo a certi rischi il bridge ave stesso insomma bisogna esserne ripeto consapevole quindi il primo livello di consapevolezza è sul come andare a spezzettare la mia asset allocation su questi tre livelli attiva non vuol dire solo a rendita vuole anche dire una componente eventualmente speculativa che so io utilizzo voglio fare anche trading per esempio utilizzando la liquidità oppure btc come collaterale bene dedicherò una fettina però devo contenerlo non posso farlo a caso se no perdo il controllo il controllo va sempre mantenuto farò dedicherò una fettina appunto della mia del mio comparto liquidità oppure del mio comparto btc al trading con certe regole che poi li esuliamo dal discorso di oggi perché li parliamo di risk management e money management nel trading che è tutta un'altra storia e vi consiglio di nuovo il mio corso gratuito trading consapevole per questo una volta che abbiamo chiaro tutto questo componente speculativa anche hedging volendo short di copertura eventuali posizioni difensive sono tutte le possibilità che mi dà l'asset allocation non spaventatevi sono sicuro che adesso vi ho messo come dire sul fuoco una marea di carne ma adesso la andiamo a cuocere un po' alla volta non temete perché partiamo con una cosa importantissima da sapere ovvero noi abbiamo tutta una piramide di dettaglio di livelli di dettaglio di asset allocation ma più andiamo nel complicato e più serve esperienza più c'è rischio e più c'è potenziale rendimento perché perché se noi ci fermiamo in superficie quindi ad esempio faccio l'esempio delle stocks banale se acquistiamo un etf world abbiamo la cosa più diversificata possibile quindi conteniamo il rischio ma anche il rendimento perché ovviamente andiamo a spalmare il più possibile con la gestione dell'etf che fa lui il ribilanciamento fa lui l'esclusione e l'inclusione di nuove stocks nel caso in cui alcune escano dalle top e così via massima semplicità ma comunque e rischio contenuto ma comunque rendimento contenuto lo stesso vale sulle cripto se io detengo decido di detenere solo btc chiaramente mi espongo un certo profilo di rischio rendimento che non è come l'etf perché per il btc parliamo sempre di un massimo drawdown del meno 85 ricordiamocelo e comunque di un upside che ogni ciclo storicamente ha fatto dei multipli quindi ovvio che è già una scala ben diversa però se io al posto di bitcoin vado a scegliermi anche 2 3 4 5 altcoin se scelte bene che richiede esperienza esposizione al rischio potenzialmente posso anche espormi a un upside molto più alto questo non mi deve fare gola e far pensare caspita devo cercare la prossima gemma da 2000 per perché lì si va nel puro gambling nella pura scommessa però andare ad allocare una piccola per qualche punto percentuale del proprio comparto cripto anche ad un altcoin sulla quale si è fatti le dovute ricerche si vede un upside molto importante e comunque il rischio lo conteniamo appunto andando a dedicarci una fettina più piccola allora lì non c'è nulla di male ma richiede esperienza quindi questo è un punto molto importante l'esperienza sul mercato deve definire la nostra operatività non ha senso per chi è appena arrivato sta iniziando a studiare il mondo delle cripto innanzitutto non ha senso investirci perché se uno è arrivato ieri e ha guardato i primi due tre video a letto magari una parte di un libro insomma si è appena iniziato a informare investire meglio aspettare bisogna prima capire che cosa si sta studiando e poi eventualmente investirci non bisogna avere fretta non scappa tanto si sale scende adesso siamo anche un po' in bear market quindi la fretta la si sente meno ma anche se fossimo in bull market non abbiate fretta perché perdere il treno è un errore emotivo chi pensava di perdere il treno a 40 50 60 mila magari ha accorso all'acquisto e adesso si trova con un drawdown già del 60 70% quindi fate tesoro di questa cosa bisogna maturare esperienza e investire in base a essa quindi se si ha bassa esperienza non ha senso andare a fare chissà quale operatività complicata che non la si comprende e non se ne comprendono i rischi soprattutto quindi è meglio limitarsi a bitcoin eventualmente ethereum che è più volatile di bitcoin sono le top 2 diciamo e quindi studiare prima quelle due e poi studiare anche il resto non affrettatevi a studiare i layer 1 alternativi le altre altcoin i protocolli defi se prima non avete studiato bitcoin ed ethereum partite da lì dopodiché si va ad approfondire quindi si parte dalle basi ci si limita a quelle le si detiene sul proprio hardware wallet una volta che si è studiato bene sicurezza e custodia e anche per questo ci sono dei video dedicati che vi ho fatto anch'io con molto piacere perché è un tema importantissimo e per l'azionario uguale etf ci sono etf su tutto sulle azioni sulle commodities su qualsiasi cosa quindi se si ha un'idea di come si vuole strutturare il proprio portafoglio a grandi linee ma non si conosce l'operatività di una specifica azienda o il come scegliere un'azione piuttosto che un'altra non fatelo non fate questi azzardi ci sono gli strumenti generici che vanno a mimare gli indici quando poi si va ad acquisire una media esperienza quindi dopo un po' di tempo che si è sui mercati si studia si approfondisce si può anche spaziare sulle altcoin con fondamentali forti chiaramente se le si è studiate non a caso non perché si è sentito dire da qualcun altro mi raccomando sempre con la vostra testa oppure le singole stocks per lo stesso motivo avete imparato ad analizzare un'azione e a capire se è sottovalutata sopravvalutata o comunque a farvi un'idea di quali volete in portafoglio benissimo siete già un passo avanti come rendita sulle cripto possiamo introdurre ad esempio lo staking come primo step perché è una rendita comunque a rischio contenuto e parlo dello staking in senso puro non lending non cose centralizzate parlo dello staking delle coin proof of stake che ha come unico rischio lo slashing e il fallimento della chain in questione quindi andatevi a vedere il video sullo staking ne ho approfondito anche tutti i rischi e come funziona ma non chiamate staking qualsiasi rendita perché questa è una generalizzazione che si fa ma è errata lo staking è il mettere in staking le proprie coin dal wallet su una blockchain proof of stake mentre le rendite generiche che spesso vengono chiamate staking sono magari rendite tramite lending tramite altri metodi che sono ben diversi come rischi e come modalità una volta che abbiamo poi un'alta esperienza quindi andiamo ancora avanti non molliamo rimaniamo per magari un ciclo o due di mercato e vediamo gli alti e i bassi allora possiamo e nel frattempo approfondiamo anche le operatività alternative possiamo fare un passo ancora in più di arrivare a capire bene tutte le rendite che le cripto offrono la DeFi la Cefai i checks e capire quali rischi comportano è fondamentale questo richiede un grado di consapevolezza che hanno in molto pochi quindi il consiglio è sempre di non andare a buttarsi a pesce su tutto ciò che offre una rendita perché ci sembra interessante se non ne comprendiamo i rischi e se non siamo consapevoli che li correremo e diciamo ok io sono d'accordo a correre questi rischi e lo stesso vale per l'operatività speculativa e l'edging sono operatività avanzate che richiedono un'esperienza sul mercato elevata vediamo un po' questi rischi quali possono essere visto che abbiamo detto esperienza rischio potenziale rendimento l'esperienza abbiamo capito come deve influenzare la nostra operatività vediamo quali sono i possibili rischi allora il primo è la volatilità l'abbiamo già detto e ridetto ma lo ripetiamo ancora già sulle cripto è alta ok anche su bitcoin senza andare sulle cripto un po' meno capitalizzate ed è tanto maggiore quanto è più ridotta la capitalizzazione questa è una una cosa di massima magari c'è qualche singola coin su cui ciò non vale ma tendenzialmente è così quindi attenzione a non buttarsi a pesce sulle cripto low cap perché altrimenti ci si espone a una volatilità importante o meglio se lo si vuol fare si sappia che stiamo andando incontro a ciò drawdown quindi anche superiori al 90% non è detto che poi si ritorna agli all time ma insomma sapete come funziona il mondo delle altcoin ci sono veramente degli eventi estintivi che molto spesso vanno a fare piazza pulita del panorama altcoin tra un ciclo e l'altro sono poche quelle che sopravvivono correlazione qua si parla spesso di fare un portafoglio cripto non correlato non esiste ok quindi le altcoin sono tutte nessuna esclusa correlate a bitcoin per il momento magari in futuro non sarà così ma adesso lo è quindi non ha senso dire io voglio avere 50.000 altcoin perché così lo decorrelo non è vero cazzate bitcoin è quella che muove il mercato le altre tendenzialmente lo seguono non semprissimo però spesso e volentieri è così nella stragrande maggioranza dei casi quindi attenzione a non compiere questo errore di valutazione esperienza e conoscenza portano rischi perché si rischia di fare errori dovuti alla non comprensione se si ha poca esperienza ma si vuole comunque bruciare le tappe e affrettare l'operatività si rischia di sottostimare i rischi questa è la cosa più grave è la cosa più comune e anche più grave operatività speculativa o hedging potrebbe causare perdite non è che se apro uno short di copertura allora io mi paro se il prezzo scende ma se sale non succede niente ci sono sempre dei pro e dei contro quindi bisogna conoscerli e contenerli rendita dall'ending defy cefai checks c'è sempre o un rischio di controparte o un rischio di protocollo li abbiamo sempre approfonditi nei vari video dedicati e l'obiettivo deve essere contenerli o se non li si vuole correre a zerarli quindi non esporsi a certe operatività stable coin anche qua c'è il rischio di depeg o altri problemi ne abbiamo parlato nel video dedicato alle stable coin anche qua mi piacerebbe dire tutto in un unico video ma durerebbe tipo 5 ore quindi ogni tanto vi rimando a qualche video ma se cercate le tematiche insomma trovate poi tutto nel dettaglio quindi se si parla di stable coin centralizzate c'è il rischio che l'azienda emittente abbia rogne che non sia trasparente sulle riserve che le riserve subiscano fluttuazioni di valore si perde il collaterale e così via quelle decentralizzate ci sono i rischi invece legati al meccanismo di depeg oppure agli smart contract coinvolti che possono essere bucati insomma sappiamo bene quali sono i rischi informatici del defi andiamo a vedere invece i rendimenti in quanto una volatilità più alta porta un maggior upside se l'asset si afferma le altcoin comunque lo sappiamo se si sceglie quella giusta chiaramente si ottiene un ottimo rendimento ma ripeto questo non deve essere un incentivo a fare scommesse a buttare soldi solo sulle altcoin perché c'è una componente fortuna molto 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 impattante e inoltre se appunto si va a spargere troppo portafoglio in altcoin va a finire che diventa non volatile di più diventa incontrollabile quindi ok andarne a scegliere qualcuna tra quelle che magari hanno già una certa longevità hanno già superato le prime fasi di mercato insomma sono già utilizzate poi vedremo cosa si intende e quindi lì allocare una fettina di capitale del comparto cripto senza esagerare anche lì secondo me è sempre una buona idea non esagerare la speculazione ovvero il trading se gestito correttamente può essere un'operatività complementare perché mi permette se io seguo una strategia ben specifica e chiaramente vado a contenere il capitale dedicato è un'operatività complementare l'investimento si guadagna se il mercato sale con l'operatività di trading invece si può guadagnare potenzialmente in tutte le condizioni di mercato ma anche perdere motivo per cui bisogna per bene capire anche lì che esperienza si ha quanto si conosce il trading quanto si è disposti a rischiare eccetera eccetera l'edging uguale può ridurre le perdite in fasi ribassiste se lo si sa gestire chiaramente perché abbiamo visto poco fa ci sono anche i rischi che non si vada a ridurre le perdite ma si vada a ridurre i guadagni nel caso in cui il mercato vada nella direzione che non ci aspettiamo la rendita c'è fai defai checks eccetera può far fruttare sia la liquidità che gli asset far fruttare la liquidità è una gran bella cosa tuttavia ci sono i rischi che abbiamo detto prima quindi si tratta sempre di scegliere con cura la piattaforma che secondo noi comporta rischi assolutamente tollerabili a fronte della redditività che ci può dare questo è ciò che è importante comprendere andiamo a vedere come si può fare quindi a contenere questo rischio abbiamo visto quali sono i rischi cerchiamo di capire concretamente come andarli a rinchiudere in una gabbietta la più piccola possibile la prima cosa è contenere l'esposizione alle cripto lo so ci piacerebbe a tutti essere all in sulle cripto ma di solito piace di più in bull market che in bear market perché in bear market chi è all in sulle cripto veramente soffre soffre tanto si dice sempre sì ma poi tanto recupera tanto risale ma insomma non siamo mai troppo sicuri di noi questa è una cosa che deve essere assolutamente sul tavolo quindi esposizione alle cripto da contenere in base alla tolleranza al rischio che si ha alle altcoin a maggior ragione perché sono ancora più volatili scegliere con cura le stable coin a cui esporsi in base a come sono strutturate a che collaterale hanno eccetera che richiede anche lì studio contenere le rendite e l'operatività speculativa e sulle rendite ci si può anche assicurare contro i principali rischi ci sono piattaforme di ancora un po' acerbe ma insomma sembrano funzionare per il momento che assicurano dagli dai depeg dagli hack degli smart contract dai fallimenti dei custodial e così via operatività speculativa da contenere perché non si può fare trading con tutto il proprio portafoglio di investimenti bisogna contenerlo a una fetta che ci dà sicurezza ammortizzare con il resto del portafoglio liquidità o asset a basso rischio che ne so io treasuries di stati forti bond di stati forti e così via perché in questo modo se io ho un portafoglio che contiene asset volatili ma un bel cuscinetto di liquidità cash questo mi va a smorzare tantissimo la come si chiama la volatilità del portafoglio stesso immaginatevi vi faccio questo esempio un portafoglio 100% bitcoin e uno 50 e 50 bitcoin e dollari per dire in liquidità in cash un portafoglio 100% bitcoin ha un drawdown massimo dell'85% supponendo un nuovo ciclo come il precedente quello 50 e 50 ha un drawdown massimo che è la metà perché il cash in dollari sta fermo e in particolare se poi si utilizza una gestione attiva come il ribilanciamento questo può diventare anche un metodo per andare a ribilanciare sempre i prezzi medi di carico dinamicamente e sul lungo termine se si sceglie bene gli asset questo potrebbe premiare del ribilanciamento ne parliamo nella prossima puntata che è l'ultima ed è proprio sulle strategie andiamo avanti quantificare il rischio quindi non bisogna solo contenerlo ma anche quantificarlo quindi che rischio c'è che rischi sto affrontando uno volatilità come faccio a quantificarla guardo lo storico e mi chiedo se posso sopportare quel drawdown 85% per bitcoin lo potrei sopportare cioè se bitcoin facesse meno 85% dei massimi andrei in bancarotta oppure avrei comunque un portafoglio di cui che mi fa dormire tranquillo nel senso devo esserne consapevole la risposta ovviamente deve essere sì stablecoin cosa dovrebbe accadere per farne andare uno a zero facciamo sempre questo pensiero negativo mettiamocelo in testa anche se è brutto qualsiasi asset a cui ci esponiamo proviamo a chiederci cosa potrebbe distruggerlo azzerarlo e che probabilità c'è e se accadesse che danno mi porterebbe al portafoglio cioè ho tutto nella stessa stablecoin e se andasse a zero sarebbe un disastro se ho un 10% in una stablecoin che secondo me ha una probabilità estremamente bassa di andare a zero perché ad esempio è USDC che comunque è la più trasparente è controllata e regolamentata la certezza non esiste mai ma secondo me la probabilità è bassa e allora magari alloco un 10% anziché l'1 ok è diverso e deve essere comunque tutto incluso nella nostra nel nostro ragionamento DeFi CeFi Chex stesse domande cosa dovrebbe accadere per perdere i fondi quali sono i rischi in altre parole che probabilità c'è che ciò accada se questo accadesse che danno mi porterebbe al portafoglio se non riesco a stimare questi valori e sto fuori perché significa che non ho compreso bene il meccanismo ok è vero che non si arriverà mai a dire c'è il 31,4% di probabilità ma almeno dire c'è un livello di rischio bassissimo basso medio alto altissimo almeno so soppesarlo col rendimento che mi dà e capire se ha senso allocare o no e quanto ha senso allocare stimare sempre quantificare il danno anche del worst case scenario ed evitare a tutti i costi la propria banca rotta cioè qualsiasi cigno nero non ci deve mandare in banca rotta che bitcoin vada a zero che le cripto vadano a zero se siamo full crypto andiamo in banca rotta abbiamo perso tutto il nostro portafoglio investimenti stiamo parlando di investimenti vuol dire 20 anni 30 anni anche di orizzonte temporale quindi bisogna evitarlo non bisogna esporsi ai cosiddetti tail risk quei rischi nascosti di bassa probabilità ma dannosissimi se accadono massima attenzione a questo scelta del settore andiamo avanti andiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire come scegliere il settore quindi quali cripto andare a detenere qua si parla di analisi fondamentale e potrete andare ad approfondirla nei video che ho fatto dedicati ma adesso vi faccio alcuni esempi anche estremamente concreti perché ci tenevo comunque a dire anche qualcosa che possa rimanere che possa essere utile qualcosa che genera utile e ha domanda sostenuta ho fatto tre esempi layer 1 non tutti chiaramente quelli che hanno uno storico una longevità maggiore che hanno tanti protocolli che hanno un ecosistema in crescita che ci lavorano dietro sempre più sviluppatori insomma quei layer 1 effettivamente che stanno crescendo questo non lo si può prevedere se c'è un layer 1 nuovo purtroppo solo Dio sa se andrà bene oppure no quello che possiamo fare è guardare indietro quindi quei layer 1 che hanno una storia una storia magari anche in bull market in bear market che ci dice che insomma stanno lavorando bene e con buona probabilità continueranno a farlo l'exchange coin chiaramente degli exchange grandi in crescita perché insomma sapete come la penso si tratta di aziende che hanno interesse nel mantenere il valore della loro coin e magari di dargli sempre nuovi use case e tendenzialmente la domanda per l'exchange coin cresce con il numero di utenti e i volumi degli exchange stessi metaversi anche lì bisogna scegliere bene ma vi ho fatto un pippone di tre quarti d'ora l'ultima volta sui metaversi e sul potenziale che hanno quindi è sicuramente una categoria da tenere sotto controllo più invece si va su protocolli o casi specifici qui siamo alla base come vedete le IR1 exchange coin metaversi infrastrutturali quelle cose che vengono poi ci si costruisce sopra protocolli ma noi non andiamo a cercare le coin dei protocolli i token dei protocolli ma andiamo a guardare indietro andiamo il più in alto nell'albero genealogico nella catena evolutiva possibile se qualcosa gira su cioè se si vuole andare a puntare sulla DeFi se si è bullish sulla DeFi e sugli NFT si è bullish su Ethereum quindi detenere Ethereum è come esporsi anche a quei settori se si è bullish sugli NFT su Solana sulla DeFi su Solana detenere Sol significa esporsi a questo bull case bisogna sempre ragionare bull case e bear case più si va sullo specifico quindi che ne so io uno specifico protocollo più aumenta il rischio perché magari quel protocollo va male ma se quel protocollo va male non vuol dire che il suo substrato va male quindi Ethereum nel caso magari ce n'è un altro che va bene perché i protocolli hanno una competizione enorme hanno rischi maggiori e quindi si sale nella piramide del rischio chiaramente anche del rendimento della volatilità e quant'altro bisogna esserne consapevoli di nuovo ammortizzatore cash ecco qua nei casi in cui si sente di aver spinto un po' troppo con la volatilità può arrivare utile può venire utile l'ammortizzatore cash che è un'allocazione liquida che ha lo scopo di ammortizzare la volatilità e i rischi può essere ad esempio un paniere di valute come dollaro euro franco svizzero eccetera 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 quindi magari chi non vuole esporsi a un'unica valuta può appunto avere un paniere di valute ci sono due certezze la prima è che un euro oggi è un euro domani per citare il nostro il nostro dragone ma al netto dell'inflazione dei tassi di cambio internazionali motivo per cui può essere interessante intelligente andare a diversificare in un paniere di valute un paniere multivaluta dimensionamento numero a caso anche qui così giusto per darvi un'idea di come la penso io 1-2 per allocazione portafoglio ad alto rischio in base alla tolleranza complessiva ovvio che se uno mi dice io ho una tolleranza al rischio estrema uno può anche non metterlo nel senso non lo impedisce nessuno non sono regole scolpite nella pietra e se uno invece ha una tolleranza al rischio estremamente bassa magari per ogni per ogni 5% in bitcoin vuole un 10% in cash per andare a fare l'effetto no barbell si chiama quando hai due controparti una estremamente volatile una minimamente volatile e vanno a contenersi l'una con l'altra quindi questa è un po' l'idea che ho io dell'ammortizzatore cash andiamo a fare qualche esempio per chiudere di asset allocation andiamo in ordine di esperienza partiamo con quelli a bassa esperienza può esserci ripeto sono esempi a puro scopo esemplificativo non da imitare pari pari mi raccomando perché l'allocazione deve venire da sé altrimenti è sbagliata in partenza se si prende da qualcun altro 5-10% cripto di cui 80 btc 20 eth questo può essere un esempio di allocazione a rischio contenuto e bassa esperienza quindi proprio una piccola fettina dedicata alle cripto quasi tutta btc e un pizzico di eth giusto per avere quel pepe in più di volatilità se andiamo ad aggiungere un po' di eth a scapito dei btc aumentiamo un pelino la volatilità e aumentiamo il rischio da contenuto a moderato se aumentiamo l'allocazione in cripto ad esempio al 10-15 e facciamo sempre 50-50 con un ammortizzatore cash 2x però abbiamo sempre un rischio moderato perché? perché si abbiamo incrementato l'allocazione cripto ma abbiamo un ammortizzatore cash 2x quindi abbiamo se il 15% in cripto il 30% in cash e questo mi va a smorzare tantissimo la volatilità questo per farvi un'idea dei livelli di rischio chiaro se volessi fare un esercizio mentale pensare un portafoglio ad alto rischio e bassa esperienza si fa un 40% in cripto di cui 80-20 BTC e TH questo non richiede particolare esperienza ma comunque il livello di rischio diciamo che è pepato andiamo avanti esperienza media allora 15-25% in cripto di cui 70% bitcoin 15 ETH 5% no manca manca qualcosa allora facciamo 70-25 ETH 5% altcoin settori designati ho fatto mali calcoli qui abbiamo un rischio notevole perché comunque abbiamo un 15-25 in cripto che non è roba da poco ragazzi insomma ragioniamo sempre anche su questo che ciò che pesa di più è proprio quanto abbiamo in cripto poi il resto viene dopo ma quella prima cosa lì è importante qui non abbiamo ammortizzatore cash quindi siamo esposti in toto alla sua volatilità e abbiamo 70 BTC 15 ETH 5% alt 70-25 scusate 5% alt quindi un'allocazione interna cripto non male tutto sommato non particolarmente estrema ma 15-25 in cripto senza cuscinetto cash poi 15-25 cripto di cui 70-25-5 di nuovo come prima ma con ammortizzatore cash e altcoin a rendita in staking se possibile qui il rischio scende perché la rendita in staking di per sé non è particolarmente un rischio aggiunto ripeto ci sono i rischi slashing e blockchain che fallisce vanno approfonditi anche quelli ma non sono equiparabili ai rischi della DeFi Cefai e simili mentre l'ammortizzatore cash smorza tantissimo la volatilità di portafoglio abbassando quindi complessivamente il rischio 15-25 cripto di cui 50-30-20 ad esempio quindi qui abbiamo un'esposizione maggiore sulle alt rischio alto perché qua aumenta il rischio e non c'è l'ammortizzatore cash se mettessi l'ammortizzatore cash magari avrai anziché un rischio alto un rischio notevole perché comunque abbiamo una volatilità non da poco data da un 20% in alt alt esperienza qui abbiamo una situazione come prima ma con della rendita con della componente di rendita su DeFi Cefai e Cex il primo a rischio alto quindi con 15-25 in cripto divisi 70-25-5 30% a rendita senza coperture di nessun tipo senza cuscinetto cash quindi abbiamo un rischio alto uguale ma con ammortizzatore cash e le assicurazioni sulle posizioni a rendita che chiaramente vanno a ridurre la rendita ma coprono dai rischi qui abbiamo un rischio moderato quindi scendiamo un po' con l'asticella del rischio potremmo andare avanti per ora a fare questo gioco degli esempi ma ci fermiamo qui perché insomma avete anche altre cose da fare immagino se volete fare insomma per gioco valutare il vostro portafoglio condividere qualsiasi idea che avete fatelo perché è sempre molto molto apprezzata io nel mentre vi ringrazio di cuore per avermi seguito ascoltato state sempre sul pezzo e non perdetevi prossimamente la terza e ultima puntata di questo breve corso ma intensivo sull'investire in cripto buona serata e alla prossima grazie a tutti